Si chiama Rocked e pronto a sfrecciare a 160 km orari sulle tratte ferroviarie della Toscana. È il nuovo treno regionale ad alta frequentazione presentato dall'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e dalla D del gruppo FS Renato Mazzoncini, nello stabilimento Itaci Rail Italy di Pistoia, che lo ha prodotto. Due piani, cinque carrozze e una capacità di 600 passeggeri con sedute più comode e bagni accessibili ai disabili. I primi quattro trenni Rock entreranno in servizio a fine 2019. Fanno parte del contratto ponte, quello che ci lega a Trenitalia, sino appunto al 2022. Però stiamo trattando e stiamo per firmare un nuovo contratto, 10 più 5, che consentirà alla Toscana di avere il totale rinnovamento della flotta e di avere anche molti più treni Rock in un numero sicuramente superiore a 20. Al momento i nuovi convogli in Toscana sono il 60% di quelli circolanti. Il rinnovamento completo del materiale rotabile, stato spiegato, sarà possibile nel giro di qualche anno grazie a un investimento di 750 milioni di euro. Adesso stiamo aspettando appunto di chiudere con Regione Toscana il rinnovo del contratto di servizio per i prossimi 15 anni e poi lanceremo conseguentemente questo enorme investimento con Trenitalia che farà fare un altro grandissimo salto di qualità, una regione che negli ultimi anni ha fatto della cura del ferro uno degli elementi vincenti della propria strategia. I nuovi treni Rock nati a Pistoia ora saranno testati in Bohemia, poi inizieranno le loro corse in Toscana.